Signor Caria, non volevo dimenticare anche del Piero, che è stato l'ultimo capitano della squadra, l'ultimo giocatore a portare il 10, persona, giocatore per la quale sento un forte e un profondo rispetto e che rappresenta senza dubbio un emblema della squadra. Per me è un piacere vestire la sua maglietta. Rispetto alla seconda domanda, sento che la tifoseria italiana è abbastanza simile a quella argentina, è una tifoseria che sente il calcio. Per quello non ho provato una sorpresa nei confronti del ricevimento che ho avuto ieri e so che i tifosi giuventini mi hanno dimostrato il loro affetto fin dall'inizio.